Allora, bella per Lollo Pro e per Brutal Sandro, il mio killer ufficiale della 37 Gamer, controller gank, bitch, ti veniamo a scopare. No vabbè. Bella, bella Brutal, buonasera, buonasera. Bella Lollo, buonasera. Bella, bella. Io comunque, io ti ho già visto da qualche parte, sono sicuro, aspetta, però non mi ricordo dove, ti ho già visto. Su Twitch, possibile, bro, perché streamo? Può essere che ti ho visto su... aspetta, ma tu sei... aspetta, ho capito chi sei. Più giochi col pad, vero? Sì, sì, assolutamente. Ok, però io te ho visto... perché te l'avevo visto? Aspetta. No, aspetta, ho capito chi sei. Ho capito chi sei. Magari ti ho visto in qualche live Tony F con la Dark. Sì, ho capito che... Forse sei tu... Cioè, io non sono sicuro, secondo me non è vero, cioè, al senso, ti dico la verità. Avevo visto il titolo così, ma secondo me non è vero che era entrato Tony. No, frate, certo che è vero, mica porto materiali inesistenti, frate, certo, gioco con loro, sono il loro player. C'è il player della Dark? Non ci credo, bro. Assolutamente sì, bro. Non ci credo, non ci credo, bro, non ci credo. Certo, bro, se vuoi te lo invito così lo vedi. Chi è che mi inviti? Mi invito Tony F. Adesso? Tony? Non ci credi, però no. Non ci prendiamo in giro, bro, non ci credo. Vabbè, invito, vabbè, sì, dai ragazzi, i soliti troll. Vai, invita, invita, vediamo. Allora, bella per Lollo, bro, e per BluTarSandro, il mio killer ufficiale della 377 Gamer, controller gang, bitch, ti veniamo a scopare. No, vabbè. No, vabbè. Bella, bro. Bella, bro. No, bro, cioè, ma come hai fatto? Io non ci credo. Non ci credo che vado ad entrare veramente, Tony. No, vabbè. Forza, me l'hai chiesto. No, vabbè. Allora, scusa una cosa, ma se tu, aspetta un attimo, se tu sei il giocatore della Dark, ok? Non credo che tu sia scarso. Questo lo lascio giudicare a voi, regà. No, regà, aspettate, aspettate, adesso voglio farvi una partita subito. Voglio volere come te la giochi, bro, andiamo, andiamo. Andiamo subito in duo. Non scappi, bro. Ti facciamo la duo, non scappi, adesso. Allora, regà, voglio vedere come gioco il giocatore ufficiale della Dark Polo Gang. Sono troppo curioso. Ok, regà, c'è uno qui? Ti ho detto, eh. Sì. Ma no, l'ho devastato. Ciao, bello. Ci sta l'altro sopra? Hittato bianco? Uh. Porca miseria, che botta. Attenzione, il giocatore della Dark. GG, bro. Porca miseria. Uh. Lei è devastato questo. Ucciso uno. GG. Stai dietro un albero, zi. Ah, eccolo qua dietro. Oh, 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 oh. GG, GG, GG. GG, brada. Oh. Ma che sta a fa' questo? Oh. Guarda, l'ho trappato. Ah, l'ho trappato però. L'ho trappato però. Uh, che botta. Qua c'è questa nuova pompa. E dai, eh. Uh. Non ce la faccio, ragazzi. C'ho 19 di vita. Andiamo a salire. Uh, eh, niente. Raga, questi mi andavano stata la montagna di Borgo. Ok, raga, vediamo, sta pieno di gente. Non ci credo. Uh. Che botte ha tirato, raga? Attenzione. No, è rimasto bloccato. Non ci credo. 178. 72. Raga, questo è un fenomeno. Ma chi sa che è lì? Porcozzi, raga. Quanto è forte questo. Non ci voglio credere. Che sfiga, raga. Non ci voglio credere. Non ci voglio chiedere, raga. Ah, bella sta mossa. Adesso è sicuro, ragazzi, atterra lì e rido. È atterrato lì. No, raga, non ci credo. È atterrato lì. Eccolo qua, eccolo qua. Finalmente se lo fa. Non riesci a mettere il pavimento. Occhio che ti edita, bro, bro. Occhio che ti edita, eh. Uh. GG, brada. Uh. Porca miseria, raga. Però mi sarei fatto prima gli shieldini, oh. Arriva. Attento, zi, mamma, ma, raga. Stanno pushando tutti, poverino. Ok, vabbè, si tratta l'ho shieldino. Ci sta. Risparano. Stai attento, bro. Stai attento. Ok, edita. Esce. Uh. Porca miseria. Che volte l'ho tirato, raga. No, eh. Anche questa no, bro. E se mi avessi tirato anche questa me ne sarei andato. Non tenti, eh. Ok, ragazzi. Lo sta pushando. Ok, 90. Ok, che però ci sono altri che cecchinano. Eh, vabbè, ma lui non sono... Non mi ha piaciuto il gioco, raga. Dai che tu lo fai easy questo. È bianco, bianco. Easy. Easy kill. 12 kill. What? Siamo già a 12? Ho capito perché Tony F l'ha preso nel clan, raga. Sì, nel clan, nella dark. Uh. 157. No. Oh, raga. Siamo già a terza cecchinata. What the fuck? Ok, ti sparano. Ma cosa parlo, raga? Che tanto non mi sente. No, raga. Non è possibile. Non è possibile. Oh, che palle, oh. Ciao. Uno. E due. No, zi. No, ma gira la scala. Sfiga, ti hai girato la scala? Oh, sopra, sopra. No, vabbè. No, vabbè, bro. What? No, vabbè. Raga, quanto è forte, oh. Dai, bro, l'hai squagliato. L'hai distrutto. L'hai distrutto questo. What? E' serio questo? What the fuck? What the fuck? Ok, raga, l'hai distrutto. L'hai devastato questo. Ok. Andiamo un po'. Ok. C'è 7 kill GG brada GG bro Allora raga Il video finisce qui Alla fine Ci ha portato veramente toni F Comunque GG bro Sei veramente forte a giocare Complimenti Bella bro Grazie mille Raga solito andate a seguirla Andate a seguirlo su Tic Che gioca bene Gioca bene raga Ha fatto veramente tantissimi kill GG brada Bravo 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 GG boys Grazie bro Quindi raga Cioè Io vi ho portato pure toni No vabbè raga Cioè non so neanche cosa dirvi Allora grazie a Sandro Grazie mille Bella bro Ci becchiamo dai Bella bro grazie a te Raga mi raccomando 5000 like per questo video Fate bravi eh Fate bravi ragazzi Ciao a tutti Vi ricordo che inserirete nello shop Il codice RCN Trattino Giaiba Supporterete me E Giaiba del mio clan Inoltre ogni acquisto Che verrà fatto Con questo codice Supporta creatore Se mi manderete La foto su Instagram Con il vostro DD Epic Mentre soppate Mentre avete già soppato Io vi manderò La richiesta di amicizia Bella ragazzi La richiesta di amicizia 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 La richiesta di amicizia